Musica Benvenuti alla centoquindicesima puntata di Sport per tutti in forma in collaborazione con WISP Liguria Quest'oggi ospite Serena Mariotto, presidente legale ginnastiche WISP Liguria, consigliera nazionale legale ginnastiche Benvenuta Mariotto, grazie di essere qui con noi, buona giornata Allora, abbiamo raccontato già tante cose, parliamo della ginnastica, carismica, acrobatica, artistica Davvero tante discipline importanti per uno sport in espansione, soprattutto per i più giovani Questo mi fa molto piacere Allora, Serena, presentata la realtà della legale ginnastiche Non si può non fare riferimento ai numeri, che appunto di tesserati in continua crescita È vero che c'è questo boom, possiamo chiamarlo Sì, la nostra lega tutti gli anni è in crescita Quest'anno ci sono oltre 200 associazioni che sono affiliate a noi su tutto il territorio regionale E circa 11.000 tesserati Di cui circa 3.000 della fascia di età dagli 0 ai 19 anni Questo significa che la nostra associazione dà la possibilità agli adolescenti Quindi ai ragazzi e ai bambini di avvicinarsi allo sport e di praticare sport In un'epoca in cui, come sappiamo tutti, invece i ragazzi tendono purtroppo ad allontanarsi Quindi ci sono poi problematiche legate alla sedentarietà, all'obesità, eccetera, eccetera Per cui questo per noi è veramente un grosso vanto È vero, tra l'altro la ginnastica passa come sport individuale e in realtà è fortemente aggregativa Io credo, perché c'è anche poi delle discipline a squadra e quindi c'è anche un modo di stare insieme Infatti ci sono sia specialità che prevedono l'esecuzione individuale e altre che prevedono quella di squadra Ma comunque anche laddove richiesta la prestazione individuale Comunque il fatto di frequentare un'associazione, una palestra Fa sì che i ragazzi riescano ad avere una sede di aggregazione E quindi di condividere i momenti della loro giornata e quindi le loro esperienze Anche dal punto di vista proprio affettivo e sociale Quindi questo è molto importante I numeri che hai dato perché sono sicuramente molto interessanti Che vanno in una certa direzione Tra l'altro ci sono già degli appuntamenti al prossimo weekend Cominciamo a parlare di questo sabato Quando al Palla Diamante di Genova Bolzanetto La prova unica del campionato di ginnastica artistica agonistica In gara sia femminile che maschile Sì, sarà la prima prova, la prova unica veramente del campionato provinciale di ginnastica artistica agonistica maschile e femminile E saranno presenti in gara più di 150 atleti Quindi essendo una gara provinciale a livello agonistico direi che i numeri sono particolarmente importanti E appunto in questa gara saranno presenti sia la sezione femminile che quella maschile E si svolgerà appunto la Palla Diamante a partire dal mattino alle 8 e mezza Fino ad arrivare al pomeriggio intorno alle 18 I programmi sono i soliti programmi nostri della WISP Che sono stati fatti a livello nazionale E che porteranno poi con la frequenza del campionato regionale per chi parteciperà Alla possibilità di partecipare poi al campionato nazionale Che si svolge tutti gli anni intorno a maggio-giugno In differenti sedi appunto a seconda di dove viene organizzato Può essere in Lombardia oppure generalmente nelle Marche Insomma le sedi sono varie, non sono diverse Assolutamente è vero che anche a livello maschile c'è un certo tipo di interesse? Sì a livello maschile la nostra associazione è cresciuta parecchio negli ultimi anni E l'attività agonistica ha riportato quindi la presenza di parecchi maschi E soprattutto a livello regionale abbiamo appunto su tutto il territorio regionale Un gruppo di circa una sessantina di maschietti che partecipano alle nostre rassegne regionali A livello provinciale le società non sono tantissime Comunque anche nella gara di sabato ci sarà una buona rappresentativa di maschi che parteciperanno Facciamo un appello che vuole essere protagonista della ginnasi Può rivolgersi al WISP e chiaramente partecipare a queste manifestazioni Proprio di manifestazione c'è stato un successo a Genova del Master Adesso andrete in trasferta a Bologna, domenica Sì, allora il Master che è stato organizzato a Genova è un Master appunto a livello regionale Con valenza nazionale al quale hanno partecipato anche tecnici da altre regioni di Mitrofe E questo Master fa parte di un iter formativo organizzato proprio a livello regionale Con delle docenti di grande prestigio che sono Veronica Scarlini e Stefania Villani Mentre il Master al quale parteciperemo domenica è un aggiornamento organizzato A livello nazionale, un aggiornamento di giuria che riguarda le sezioni di artistica appunto femminile Di acrobatica e anche di ginnastica ritmica Per cui abbiamo organizzato diciamo un pullman per poter prendere parte a questo evento Che sicuramente a livello formativo per noi è molto importante La vostra filosofia come WISP in genere è quella della formazione Quindi ha maggior ragione per non sport come la ginnastica Questo sicuramente Adesso ci fermiamo un secondo perché vediamo un servizio sulla manifestazione giovanile La corsa dei diritti che si terrà a giorni Vediamo New York 20 novembre 1989 Una data storica al giorno della firma della convenzione ONU Sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza Nell'ambito delle celebrazioni per il 25esimo anniversario La Lega Atletica Leggera dell'UISP di Genova Dedica anche quest'anno all'importante ricorrenza Uno degli appuntamenti ufficiali del calendario del circuito giovanile L'Atletica è leggera Dopo il rinvio per le cattive condizioni meteorologiche Sabato prossimo 22 novembre Presso il pattidonodromo di Villa Gavotte a Genova Sestri Ponente Si svolgerà infatti la gara giovanile La Corsa dei diritti Che aprirà ufficialmente la stagione sportiva 2014-2015 In collaborazione con l'associazione sportiva Moonlight Skating Che gestisce l'impianto sportivo ponentino L'Atletica Don Bosco Universale Organizza per il quarto anno consecutivo La Corsa dei diritti aperta a tutte le categorie giovanili Dai primi passi delle leve 2010-2011 Fino alla categoria ragazzi per gli atleti nati nel 2002-2003 Con il supporto logistico della Lega Atletica Leggera Del Comitato di Genova L'associazione UISP del presidente Alberto Priarone Ha già stilato un programma di gara davvero intenso Il ritrovo fissato a partire dalle ore 15 Con la partenza della prima batteria ufficiale Prevista per le 15.45 Tutti i giovani atleti si misureranno Su prove della distanza prevista per la loro categoria Dei metri 200 dei primi passi B Passando per i 500 metri dei pulcini Fino ad arrivare alla distanza dei 900 metri Della categoria ragazzi Una manifestazione che vuole essere soprattutto Una giornata di sport per tutti e divertimento E l'occasione per una riflessione Sull'anniversario della convenzione ONU Partecipazione gratuiti per tutti Come la tradizione delle gare Dell'intero circuito dell'atletica leggera Il cui secondo appuntamento È già fissato per sabato 29 novembre Presso il campo Marco Pala di Cogoleto Per la manifestazione il giorno delle staffette Serena abbiamo visto questa importante pagina di atletica Però anche nella ginnastica Voi avete degli appuntamenti Delle manifestazioni con più giovani Per i ginnasti Di ginnasti non della categoria agonistica Sì, noi abbiamo delle manifestazioni Di gare di ginnastica libera Che noi chiamiamo manifestazioni di rassegna Che permettono di partecipare veramente Ad atleti di tutte le età e di tutti i livelli E sono un pochettino il fiore all'occhiello Della nostra lega Nel senso che grazie a queste manifestazioni Noi riusciamo a far partecipare alle gare Veramente tutti i bambini Anche quelli che non avrebbero altrimenti Possibilità di prendere parte Ad eventi magari agonistici Di livello più alto E a queste manifestazioni abbiamo sempre Dei grandi numeri Circa 500-600 atleti La dimostrazione del fatto appunto Che il programma è veramente apprezzato Da tutte le nostre associazioni Questo è importante Tra l'altro si chiamano rassegne individuali a squadra Sì, perché diciamo che alla fine di queste rassegne Viene stilata una classifica a squadre In modo che anche le bambine Che altrimenti individualmente Non avrebbero possibilità di partecipare Sono premiate e quindi vengono gratificate E poi viene fatta anche una classifica individuale Invece per quelle ragazzine che vengono indicate Che magari hanno qualche capacità in più E quindi gratifichiamo anche loro In modo appunto che tutti vadano via contenti E soddisfatti della loro distanzione Assolutamente, questo è fondamentale Soprattutto per i più piccoli Serena Mariotto, adesso andiamo un po' nel dettaglio Andiamo nello specifico più tecnico In qualche modo Perché ci sono delle differenze Nella ginnastica ritmica e acrobatica Ma io leggo poi che ci sono appunto Delle prove sia provinciale che regionale Per esempio di acrobatica e di acrogym Cosa si tratta? Quali sono le differenze? Allora, le differenze intanto sono che Mentre nella ginnastica artistica e ritmica Si utilizzano degli piccoli o grandi attrezzi Nell'acrogym per esempio Sono gare che vengono svolte a corpo libero Non individualmente Soltanto a coppie oppure a piccoli gruppi E in queste gare quello che è importante È eseguire delle posizioni Che possono essere statiche o dinamiche Quindi di gruppo Con una coreografia Quindi tutto l'esercizio è accompagnato Da una coreografia E si arriva anche a prestazioni Diciamo di livello alto Quindi anche con una parte acrobatica notevole Quindi con una tecnica abbastanza elevata Per quanto riguarda invece l'acrobatica Diciamo che l'acrobatica è un pochettino Una disciplina parallela Alla ginnastica artistica Nel senso che vengono eseguiti Il corpo libero Quindi sulla striscia facilitante O sulla pedana facilitante E delle esecuzioni al trampolino Di elementi che poi sono anche propedeutici Alla ginnastica artistica Questo tipo di differenze Insomma in qualche modo Sì, sì, esatto Beh, insomma Credo che l'acrobatica sia spettacolare Sì, sì, sì Poi ultimamente Per quello che riguarda l'acrobatica C'è molta richiesta Anche di ginnaste Che magari hanno terminato la loro carriera O anche di ragazzi Che magari si avvicinano al parkour A tutte queste discipline Chiedono proprio di poter venire A fare delle lezioni di ginnastica acrobatica Perché è formativa È formativa Sì, sì Comunque anche a livello di preparazione fisica Richiede appunto Un impegno muscolare notevole Quindi abbiamo parecchie richieste Ecco La ginnastica è completa come sport Sì, sì, sì Sì, sicuramente Delle peculiarità fisiche Insomma chi ha studiato Può dirlo chiaramente Oltre che chi l'ha praticata ovviamente Serena in chiusura Ricordiamo le prossime gare L'appuntamento di fine stagione Con le resegne nazionali Dove la Liguria Tiene sempre tra l'altro Ottimi piazzamenti Sì, appunto Come dicevo prima Le società della Liguria Che partecipano al campionato regionale Hanno poi la possibilità Di partecipare Ai campionati nazionali Che vengono organizzati Tutti gli anni Per tutti i vari settori Quindi per l'acrobatica L'acrogym Ritmica artistica Maschile e femminile Insomma Solitamente Sono parecchie Le associazioni nostre Che prendono parte Ai campionati nazionali E ottengono anche Dei buoni risultati Quindi di questo Siamo molto orgogliosi E quindi è importante La formazione Proprio per permettere Anche ai nostri tecnici Di arrivare Agli appuntamenti nazionali Con un buon livello di preparazione Di potersi confrontare Da darmi pari Con gli altri Sicuramente Tanto speriamo Che il tempo Ci dia un po' di trego Perché la Wisp Ha dovuto rivedere I calendari Per la sicurezza Sara Valdizione Ci diceva Che insomma 70-80 Incontri solo Che di calcio saltati Insomma Avete dovuto fare fronte Anche voi All'emergenza La stagione Diciamo Della ginnastica È lunga Però Sì La stagione Della ginnastica È lunga Perché noi iniziamo A livello di formazione Abbiamo iniziato Già a settembre E invece proprio A livello di manifestazioni Partiremo appunto sabato E poi termineremo Verso giugno Ecco Diciamo che poi Più o meno Da gennaio in poi Quasi tutte le domeniche Ci sarà un impegno Agonistico Di ginnastica libera Di diversi settori Quindi sicuramente È abbastanza impegnativa Come stagione Allora Serena Mariotto Ti auguro davvero buon lavoro Come Presidente Della legale ginnastica WISP Liguria E in bocca al lupo Per tutte le attività Che fate e svolgete Grazie Grazie Lo spazio WISP Anche per questa settimana Sud e qui Naturalmente tornerà La prossima Con altri ospiti Altri appuntamenti Arrivederci Grazie 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 Grazie